Un rinnovato patto di maggioranza per un nuovo inizio con la determinazione a lottare per evitare di rigettare nel caos il paese. Sulla base di queste parole, il presidente del Consiglio Enrico Letta ottiene ancora una volta la fiducia al suo governo da entrambe le Camere. Sono convinto che ce la faremo e per quanto mi riguarda combatterò come un leone. Una richiesta di fiducia molto sofferta, non sono mancati infatti scontri e toni accesi con le forze politiche. In prima linea, il Movimento 5 Stelle difende il suo leader sulla questione dei giornalisti cosiddetti oppositori. Questa logica della delazione, dell'accusa, è una logica inaccettabile. Aggiungo, non l'ho condiviso per un altro passaggio. Io onestamente pensavo che dopo la gaffe di Grillo sui giornalisti, la giornalista dell'Unità Oppo, il suo collega di Repubblica, Francesco Merlo, io pensavo che si fosse reso conto, Grillo, di aver fatto una gaffe, e immaginavo quindi che il discorso si chiudesse. Invece vedo, collega Nuti, che lei ha rilanciato addirittura, ha rilanciato spiegando che o i giornalisti dicono e scrivono le cose che piacciono a voi oppure vengono messe alla gogna. È inaccettabile questa cosa. È inaccettabile questo. Cosa dovrei... Lasciate finire la replica. Io le dico e le do un consiglio. Le do un consiglio. Sta parlando. Cosa dovrei fare io che ogni mattina, nella lettura dei giornali, leggo ogni mattina le cose più strampalate, incredibili, scorrette, ingiuste, dal mio punto di vista rispetto a quello che accade. Ma, collega Nuti, è il mio punto di vista e c'è una differenza di fondo. Se lei ritiene che un giornalista le dà le regole delle nostre istituzioni, lei può andare a rivolgerci alla magistratura per avere ragione rispetto a quello che chiede. Ma il resto fa parte della dialettica e del normale dibattito politico e democratico. E rimango esterrefatto dal fatto che lei abbia voluto rilanciare oggi nel suo intervento su questo punto. E aggiungo, ha totalmente ragione il collega che adesso è fuori dall'aula, ma ha fatto un discorso che io condivido completamente. Qui siamo tutti cittadini, parliamo tutti a nome dei cittadini e io credo che questo tema di dare agli altri dell'essere disonesti è un tema in quest'aula inaccettabile. Ennesimo sollevamento di Toni quando in Senato il leghista Davico annuncia il suo voto favorevole al governo. Iniziano così una serie di pesanti contestazioni da parte dei colleghi leghisti, in particolare dal senatore Calderoli. Quindi un buon inizio, ci sono le condizioni perché si possa passare in maniera efficace a trasformare i titoli del discorso di oggi in azione di governo e parlamentare dei prossimi mesi. Mi pare una polemica che giustamente è stata fatta perché le parole di ieri di Grillo sono state parole irresponsabili, molto gravi e la risposta di oggi in Parlamento io credo fosse un atto dovuto e giustamente il Presidente del Consiglio l'ha fatto. E' un discorso pessimo, arrogante, fuori dal mondo. Un discorso sul nulla, in attesa dei diktat di Renzi, in attesa che Renzi riempia il programma di Letta di nuovi contenuti. Letta è un fantasma che non può riconoscere il suo passato, perché è il passato delle larghe intese che è finito e non sa quale sia il suo futuro, perché Renzi non gliel'ha ancora scritto, non gliel'ha ancora detto. Il discorso di un fantasma, di un fantasma arrogante. Il cambiamento di prospettiva sulle riforme, quindi l'abbandonare la Commissione dei 40, un percorso particolare e tornare all'articolo 138, come lo giudica? Beh, la certificazione di un fallimento. Il fallimento di Quagliariello, il fallimento delle larghe intese che lui ha fatto fallire, la sua impotenza, la sua mancanza di coraggio sulla giustizia e la tristezza sul fatto che di giustizia non si parla più. Ho guardato bene Alfano in quel passaggio. Come fa Alfano a riconoscersi in questo Presidente del Consiglio, che di giustizia non parla più? Quando Letta dice di archiviare un ventennio sprecato, secondo lei si riferisce all'esperienza di Berlusconi del PDL al governo? Ma vede, negli ultimi vent'anni si è governato metà e metà. In questa metà mi pare che Letta fosse operativo come vice segretario del partito, ma anche come ministro e altro. Quindi è una delegittimazione, penso, innanzitutto di se stesso. È una bella condizione psicoanalitica quella di Letta. Un fantasma che nega se stesso. È il massimo della psicoanalisi. Devo dire che il Dottor Freud e il Dottor Jung avrebbero molto da ridire. È un nuovo inizio. Ho visto un Letta pieno di speranza, con una visione di profondità. Ma certo non ci sono più alibi adesso. Bisogna andare ad incidere sul corpo vivo dei problemi, che si chiamano ancora sviluppo, occupazione, per togliere questo grande disagio che c'è nel Paese. Non ci è piaciuto perché alla ricerca dei pochi voti di Alfano ha sacrificato quella che è invece la nostra richiesta. Noi vogliamo più lavoro, vogliamo meno tasse per i lavoratori dipendenti, vogliamo degli investimenti veri. Questo è quello che è mancato ed è per questo motivo che non daremo la fiducia. Un inizio con il freno a mano sganciato. C'era un freno a mano a questo governo fatto, composto da tante forze politiche, alcune delle quali però rimavano un po' contro. Oggi la maggioranza è probabilmente meno ampia, ma molto più chiara e molto più solida. Scelta civica è pronta a confermare la propria fiducia al governo Letta, a patto che il governo faccia le cose che ha detto adesso il presidente Letta di fronte al Parlamento. Ovvero un nuovo inizio, perché l'Italia non può permettersi di galleggiare, un nuovo inizio che a nostro parere deve essere concentrato su due temi. La riduzione della pressione fiscale e le politiche attive per il lavoro. La riduzione della pressione